sulla tela nera solo pochi segni un tronco e i suoi rami risvegliati dalla matita bianca un vero e proprio marchio di fabbrica nel piatto la tavolozza dei colori scelti inconfondibile accanto la batteria di pennelli niente cavalletto luca alinari non vuole che i colori debordino quindi dipinge in orizzontale per evitare colature anche per questo il piatto sembra un prossimamente del quadro che verrà il colore in sé non esiste esiste il rapporto del colore che può essere arancio verde giallo del colore con gli altri colori mescolandosi il colore tende a diventare uniforme se noi mescoliamo tutti i colori che colore abbiamo un marco luca alinari al lavoro un po alchimista un po artefice rinascimentale potrebbe sembrare un visionario ma in realtà è un perfezionista un'autodisciplina la sua che condive con il folletto tutto fiorentino del paradosso per cui ogni cosa appare logica nel momento stesso in cui la si mette in discussione e viceversa un pennello nuovo o un pennello vecchio c'è la sua differenza tutto è in qualche modo calcolato ma nello stesso tempo tutto non è calcolato sul poggio che nasconde Firenze la casa del maestro insieme nicchia ecologica cornice palcoscenico laboratorio nella penombra rassicurante il gusto spiazzante del contrasto le cornici vuote gli angeli santi che si danno le spalle fuori la vivacità della natura si riflette imbrigliata nella geometria della vasca esattamente come sulle tele l'esuberanza dei paesaggi si alterna con il rigore dei ritratti che sembrano abitanti di un rebus sono non sono e non è l'arte viene così non viene dalle certezze viene dalla implicazione dialettica e contraria delle cose il pennello raccoglie i colori come se fossero fiori o funghi fra l'erba li ingloba e poi li svolge letteralmente ruotando sulla tela come tutti gli esploratori al inaria imprevedibile e curioso non a caso è uno dei pochissimi artisti italiani che espone e tiene lezioni in cina forse per questo è stato scelto per disegnare il logo dei campionati mondiali di ciclismo che si svolgeranno in toscana nel 2013 ogni volta un viaggio che non si sa bene quando finirà i rami degli alberi hanno una loro anarchia sono contorti ma cosa stanno cercando stanno cercando la luce cercano la luce del quadro e il quadro è finito quando questi arami trovano la loro luce anche io in quel momento ho trovato la mia luce allora il quadro è finito